prendetela come una supercazzata o meglio io mi auguro che questa sia una supercazzata però un presagio funesto sul futuro dell'europa e sul nostro futuro soprattutto allora vi ricordate tempo fa intorno a gennaio febbraio di quest'anno trump che di fatto parla di una non dico scioglimento ma comunque di una nato che non sarà più un ombrello protettivo in europa e quindi gli stati uniti che si defilano di fatto da quella protezione in chiave ovviamente anti russa una volta anti sovietica del continente di per sé l'idea di sciogliere la nato non aver più la nato ovviamente mi piacerebbe perché per la sovraientà nazionale bisogna liberarsi dalle forze di occupazione americane ma parallelamente lo stiamo vedendo stanno lanciando in maniera evidente fortissima gli stati uniti d'europa con un progetto di riforma che verrà avviato subito dopo le elezioni europee già messo nero su bianco che prevede la creazione di un esercito europeo l'esercito europeo con l'arretramento degli stati uniti riguardo alla nato fa pensare quindi a un'europa che a quel punto lavorerà da sola in terma militare e a quel punto però che situazione si verifica considerando anche che è uscita la gran bretagna che una potenza nucleare rimane come potenza nucleare semplicemente la francia ma una potenza nucleare che può di fatto essere gestita in un conflitto convenzionale per cui cosa mi immagino beh mi immagino la solita operazione americana stay behind come ricorda sempre benissimo francesca modeo in cui gli stati uniti stanno dietro e usano come oggi stanno usando l'ucraina tutta europa come palla da cannone in chiave antirussa e anticinese c'è una guerra convenzionale che non sarebbe possibile combattere con la presenza degli stati uniti nel conflitto potrebbe essere possibile combatterla con un'europa continentale contro la russia rievocando anche quelle vecchie frasi di idioti come altiero spinelli e altri che valutavano proprio per la nascita di un'unione europea di stati uniti d'europa al conflitto con la russia gli americani utilizzerebbero quindi noi o meglio le multinazionali che governano gli stati uniti d'america utilizzerebbero quindi noi in un conflitto aperto per indebolire russia e cina nella speranza di riuscire a mantenere il predominio globale che è quello codificato post breton woods con il dollaro moneta centrale degli scambi internazionali utilizzata come strumento di conquista imperialista nel resto del globo e quindi un conflitto a questo punto convenzionale proprio tra unione europea a quel punto saranno stati uniti d'europa con il nuovo esercito unico e direttamente russia e cina ripeto prendetela come cazzata ma collegando i puntini io penso che i folli al timone delle nostre vite quindi vari gruppi del potere economico stiano pensando esattamente a questo per poter combattere chi come i brics oggi minaccia il loro predominio a livello globale e vuole un mondo multipolare invece che mono monocolore e mi sembra che l'abbinamento sulle posizioni di trump sulla nato con l'idea di stati uniti d'europa ed esercito unico portino a questo scenario assolutamente catastrofico e quindi una sorta di terzo conflitto mondiale però convenzionale in larga parte convenzionale o comunque con un numero di testate nucleari limitato che non porterebbe all'estinzione e quindi possibile da combattere se possono fare la guerra non esiteranno a farla ahimè ripeto facciamo i debiti scongiuri ma temo che questo scenario sia plausibile o quantomeno lo ipotizzino un caro saluto